Internet gratis lungo 9 km di costa. Nei 212 stabilimenti balneari del territorio cervese, compreso Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, sarà possibile navigare gratuitamente in internet attraverso pc portatile e smartphone. Il progetto nasce dalla collaborazione di Cooperativa Bagnini Cervia, Comune di Cervia, Gruppo Era e Accanto e dal prossimo 20 giugno sarà attiva la più vasta copertura wireless di una zona balneare italiana. Questo progetto è stato reso possibile da un grande progetto che è stato realizzato frutto della collaborazione di Era, della Cooperativa Bagnini e del Comune di Cervia che ha installato le nuove reti per la distribuzione dell'acqua, la distribuzione del gas e ha installato un cavidotto per ospitare la fibrotica su tutta la costa del Comune di Cervia. Abbiamo già realizzato il primo e il secondo stralcio, quindi Tagliata, Pinarella e poi Cervia, dopo l'estate realizzeremo il terzo stralcio di questa rete infrastrutturale che con il costo di circa 1 milione e 700 mila euro pagati in gran parte dalla Cooperativa Bagnini e con un contributo importante del Comune di Cervia e di Era ha consentito appunto questa infrastruttura. Questa parola wifi che per i giovani è molto nota, conosciuta, magari per le generazioni meno giovani un po' meno, cosa sta ad indicare? Sì, sostanzialmente l'allocazione della fibra ottica sulla costa consente di installare delle apparecchiature che trasmettono via etere il segnale elettronico che consentono l'attivazione dei computer, dei cellulari, quindi su tutta la costa del Comune di Cervia, da adesso in avanti, sarà possibile navigare e collegarsi via internet senza bisogno di un allaccio fisico, ma soltanto con l'allaccio wifi appunto.